L'arrivo di un figlio è un evento straordinario, e questo mi è chiaro, ok. La mia routine quotidiana cambierà e questo l'ho metabolizzato, forse. Così come cambieranno inevitabilmente le abitudini e le dinamiche della coppia. Ecco, su questo non so se sono proprio pronta. E non parlo di me e Lillo. Certo, ora dovrò concentrarmi sul spiegare proprio al piccolo Lillo come dovrà fare, perché non potrà avere più tutte le attenzioni su di lui. Già me lo vedo che si impossessa della culla della piccola. Mi sa che sto scendo fuori tema. Parlavo della coppia. Loris, secondo voi, sarà più pronto di me? Sicuramente a cambiare i pannolini. Forse abbiamo fatto tutto troppo in fretta. Ma alla fine c'è un momento giusto per fare un figlio? E qualcuno gliel'ha detto che, soprattutto nel postparto, dovrà sempre dirmi sì, amore, certo amore, farò tutto quello che vuoi, tutto ciò che desideri. Ah no, gliel'ha detto nessuno? Vabbè, allora glielo dico io. Amore, vieni! Vabbè!